È un indotto che a livello veneto vale circa 600 milioni di euro e noi abbiamo proprio pensato loro perché sono i primi che soffrono però dopo possono far ripartire tutto il mondo del turismo quindi il mondo sia dell'alberghiero ricettivo e ristorativo. Il principio è semplice se ripartono gli impianti di risalita riparte la montagna con il suo indotto da qui il bando presentato in provincia mezzo milione di euro a sostegno delle società operanti nel comparto una misura di sostegno a chilometro zero per una categoria costretta allo stop che sulla carta dovrebbe riaprire il 7 gennaio ma il condizionale è sempre più d'obbligo. Purtroppo però per quella data ancora non abbiamo i protocolli le linee guida per poter aprire senza quelle non riusciamo neanche ad organizzarci in questo momento di lockdown per quanto ci riguarda e comunque sappiamo essere delle linee molto restrittive che necessitano per forza una programmazione un'organizzazione e anche personale aggiuntivo per gestirle quindi costi che si vanno sommare ad altri costi senza la garanzia di un fatturato certo che questo mancherà a partire dagli stranieri e anche a limitazione dei spostamenti per quanto riguarda gli italiani. In particolare lo stop di Natale provocherà danni milionari un aiuto in queste settimane nonostante tutto è arrivato dal cielo. Si parla di perdite che vanno dal 50 al 70 per cento l'unico vero ristoro che è arrivato ad oggi è la neve che è caduta dal cielo che che limita le nostre spese limite e limita di fatto le nostre perdite.